Mercoledì 13 dicembre, presso il ristorante Enjoy all'Osi di Ostia, come ogni anno in questo periodo, si è rinnovato l'appuntamento pre-natalizio di AICS Lazio con l'Assemblea dei Comitati Provinciali, prima dello scambio di auguri. Una mattinata culminata nel pranzo di Natale alla presenza di importanti personalità del panorama regionale capitanate dal presidente di AICS Lazio e Sporting Tour Giampaolo Morsa. Insieme a lui Massimo Zibellini, coordinatore degli enti di promozione sportiva presso il CONI Lazio, Filippo Tiberia, consigliere AICS Nazionale, Marco Belmonte, presidente della Commissione Urbanistica per il Decimo Municipio e Antonio Caliendo, assessore al turismo e produttività, sempre per il Decimo Municipio. Una data da assegnare sul calendario delle iniziative targate Sporting Tour, quella di mercoledì, anche e soprattutto dal momento che ha pure rappresentato l'occasione, a margine dell'incontro, per la firma di un protocollo d'intesa molto importante. Di che cosa si tratta? Ce l'ha spiegato poi in maniera ancora più chiara il presidente Morsa, nei suoi interventi compreso quello inerente alle sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Rete Oro. Sì, abbiamo fatto un protocollo con il Decimo Municipio di Ostia, dove per portare un po' di manifestazioni a livello nazionale e regionale qui a Ostia, e quindi un protocollo per i vari alberghi e per le varie strutture sportive, proprio perché vogliamo farlo creare un connubio sempre più stretto tra noi e il Municipio Decimo di Roma. Parole che hanno poi trovato riscontro anche in quelle di Antonio Caliendo. La novità è che abbiamo si tratta insieme a ICS un protocollo d'intesa per cercare di lavorare su Ostia come distretto turistico sportivo, sui grandi eventi dello sport, che usciremo nel 2024 a concentrare e realizzare su tutto l'anno, quindi non soltanto sulla stagione estiva. E proprio per questo, grazie alla collaborazione con le grandi associazioni di datoriali di categoria, soprattutto quelle ricettive, abbiamo in qualche modo calmerato i prezzi, non solo per i sportivi che verranno a disputare le competizioni organizzate dall'ACS, ma anche per gli accompagnatori e soprattutto per i familiari che seguiranno in questa bellissima avventura gli atleti e perché no poi potranno rivedere in questa città un luogo dove poter venire a passare le proprie vacanze. Un crocevia importante insomma che apre nuovi scenari ed arricchito dal piacere della condivisione e dell'unione di intenti in un contesto che ha permesso a enti e istituzioni di poter viaggiare nuovamente sulla stessa lunghezza d'onda.